Si è svolto sabato sera il concerto di Natale nella chiesa di Cossila a San Grato, una serata di grandi emozioni musicali. Don Paolo nel ringraziare i due cori presenti, il coro 100% misto ed il coro burcina ha voluto estendere a tutta la comunità gli auguri di un sereno Natale attraverso le melodie di una serata dedicata al bel canto e dalle emozioni sonore. I cori hanno proposto le classiche melodie di Natale con alcune preziosità polifoniche con l'esecuzione di brani antichi, rinascimentali ed ottocenteschi in lingua originale. Il coro 100% misto con la direzione del maestro Sandro Montalto ha chiuso la prima parte della serata eseguendo un brano di grande effetto dedicato a Mandela, il leader recentemente scomparso. Il coro burcina ha regalato al numerosissimo pubblico preziose polifonie di cui alcuni brani tratti dalla tradizione popolare splendida in particolar modo l'esecuzione dedicata alla Madonna di Europa. il coro 100% misto con l'esecuzione del 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 coro 100% misto con l'esecuzione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.